ciao questo è il solito video di quando riesco ad andare a recuperare qualche film nuovo che visto che adesso lo hanno messo sulle solite piattaforme mi sono mi sono andato a vedere in it ends with us siamo noi a dire basta che un film che è uscito quest'anno che del 2024 che due a quelle due ore dieci di film quasi due ore 10 quei 130 minuti che il solito film americano degli stati uniti che come genere come genere tocca mara il genere drammatico sentimentale che la sua data d'uscita ufficiale al cinema è stata mercoledì 21 agosto di quest'anno 2024 come stavo dicendo che la regia di questo film di questo justin baldoni che magari come film è uscito mai in un periodo magari per il cinema per il cinema non bello perché ad agosto magari molta gente in vacanza però l'ho voluto andarmelo a ricoprire come film che come film come si dice che la trama è stata è stata presa dal romanzo rosa di colle di questo collen o ovvero che mariai per mariai tra il libro il la mariai il film ci possono essere mariai dei particolari mariai diversi polari più che altro mariai la trama in sé e quali può cambiare più che altro qualche particolare che mariai la trama in sé più che altro c'è lili bloom che una ragazza di 23 anni appena la reata che si trasferisce a boston con la speranza di aprire un suo negozio proprio di fiori che è cresciuto in una famiglia disfunzione disfunzionale che il suo defunto padre andrew abusava fisicamente di sua madre jenny portando lili a provare il risentimento nei suoi confronti oltre a provare il risentimento nei confronti della stessa madre per essere rimasta con lui proprio che altro mariai questa lili è uno spirito libro che ai fiori persino nel nome dopo il funeale del padre dove è riuscita a pronunciare l'elogio funebre lili si è trasferta dal dal mine a boston con l'intenzione di questo negozio di fiori appena arrivata appena arrivata incontrare questa rile king guide che è neurochirurgo bello e tenebroso che si rivelerà essere il fratello della sua assistenza assistente fioraia alisa ma rail è un tipo non è non è tipo mai da rapporto stabile per un po lili resiste alle sue illusinghe la la donna e anche mare tempo tormentata da alcuni eventi eventi traumatici del suo passato come stavo dicendo da cui da alcuni come si dice che il padre picchiava la moglie e ha fatto lo stesso col primo amore della figlia atlas che lili ha ancora ricorda con nostalgia che quando finalmente lili cede alle attenzioni di a il salvo proprio il ricordo proprio l'altro dark dell'uomo con cui lili trova a fare i conti che a farla breve la trama del film e a questa quadro poi essendo anche un film che dura quelle due ore 10 quasi ho visto che merita come film che essendo il solito mora il film americano è fatto anche bene dopo essendo mora e la trama tratta da un da questo romanzo come ho detto prima di questo colline over come come tra la cc poteva mare anche stare che anche come film è fatto anche bene che l'unica cosa che il libro non sono andato a vedere lo che mi sono visto direttamente il film come stavo dicendo il film ci può anche stare che adesso volevo mare un po vedere se riusciva da me a recuperare il libro e niente che visto che per adesso sono andato a recuperare il film da guardare visto che adesso lo hanno messo sulle solite piattaforme gli volevo dedicare questo video sul mio canale visto che è un film anche nuovo che di quest'anno che è uscito ad argosso come ho detto prima che vi lascio mai tutte le informazioni sul film sotto in come si dice sotto in descrizione tra il cast video trailer e se riesco a trovare qualche altra informazione trovate mai le trovate come al solito tutto sotto in tutto sotto in descrizione che più che altro parlava di questa lili bloom che l'attore principale protagonista mare del film e lili con questo justin baldoni come regia di questo film che come film romantico un po drammatico magari come film ci poteva anche stare che ecco come trama è una di quelle trame che può magari risultare a molte persone magari interessante dopo dipende logicamente anche dai gusti delle persone e niente che quello che potevo dire su questo film l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto magari sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao